Domani, domenica 24 maggio, sarebbe stato il giorno in cui Pier Santi Mattarella avrebbe compiuto 85 anni, compleanno che assume una valenza particolare in questo 2020, cioè 40 anni dall'uccisione avvenuta il 6 gennaio del 1980. Si conclude oggi con le interviste al neoprefetto di Palermo Giuseppe Forlani e dal questore Renato Cortese la settimana che Vidia Sicilia ha voluto dedicare al compianto presidente della regione siciliana. Domani un altro grande uomo, Pier Santi Mattarella, avrebbe compiuto 85 anni, ma non ci è arrivato perché una triste mano ha voluto 40 anni fa che fosse così. È una terra che ha avuto tanti martiri, tanti eroi e sono per noi esempio per continuare a lavorare con più impegno. Pier Santi Mattarella ha rappresentato il momento in cui Palermo e la Sicilia avevano espresso veramente la volontà, attraverso i suoi uomini migliori, del cambiamento. Un cambiamento che doveva basarsi naturalmente sulla risposta anche giudiziaria e di polizia, ma aveva una risposta politica. Pier Santi Mattarella, così come altri autorevolissimi personaggi politici che in quello stesso tempo sono stati ammazzati per il fatto che erano il cambiamento, segnavano il cambiamento. Oggi secondo me occorre perseguire quegli esempi e riprendere, continuare a tessere questo filo che lega la lotta alla criminalità organizzata e lo sviluppo di questa terra.